Stefano De Martino ha un flirt in corso con una presunta ex dopo l'addio a Belen Rodríguez? Ecco che cosa sta succedendo negli ultimissimi minuti. Stefano De Martino e la bella Belen Rodríguez ormai sono separati, e la loro storia sembra essere solo un lontano ricordo. Eppure, sembrerebbe che il noto conduttore, sempre più apprezzato in Rai, abbia un flirt in corso con una presunta ex. Stiamo parlando di una donna che abbiamo già visto, in passato, a leggere nella vita di De Martino, e che ora sembra rimpiombare dal nulla. A inchiodarli le ultime due storie su Instagram che hanno pubblicato rispettivamente poco fa. Non solo, c'è anche un messaggio arrivato da un utente in forma anonima nel quale si parla di presunto riavvicinamento. Scopriamo che cosa sta succedendo, e soprattutto di chi si tratta. Nel frattempo Belen si gode la sua vita lontana, per il momento, dal mondo della televisione. Stefano De Martino, flirt con la presunta ex dopo l'addio a Belen? Il gossip che impazza. Stefano De Martino sta avendo un grandissimo successo, soprattutto per quanto riguarda il suo ruolo da conduttore in Rai. L'ex ballerino, infatti, pare che abbia stipulato un contratto con la rete nazionale di almeno quattro anni, e si parla addirittura di vederlo ai prossimi festival di Sanremo. Senza tenere conto del fatto che, per esempio, potremmo vederlo anche ad Affari Tuoi al posto di Amadeus. Al di là della sua carriera, ciò che importa tanto è anche la sua vita sentimentale e privata, anche se spesso è molto riservato su quest'ultima, persino quando stava con Belen. Stefano e la presunta ex sarebbero stati insieme a Napoli nella serata di ieri. Stiamo parlando dell'influencer e imprenditrice Gilda D'Ambrosio, con il quale era già stato avvistato tempo fa. All'epoca, si parlava già di presunto flirt, anche se i due non hanno mai confermato o smentito il gossip. In ogni caso, pare che i due fossero nello stesso posto nella città partenopea, e a confermarlo il fatto che abbiamo pubblicato storie Instagram dallo stesso posto. Non solo, Dejanira Marzano, esperta di gossip, ha pubblicato una foto che mostra un messaggio che le sarebbe arrivato in forma anonima. Un utente, le avrebbe fatto notare che tra i due ci sarebbe qualcosa in più. Insomma, nonostante non abbiano mai confermato che tra loro ci fosse stato qualcosa, sembrerebbe che attualmente i due si stiano di nuovo frequentando. Tra l'altro, sia Stefano che Gilda, hanno sempre svelato di essere molto amici e di trovarsi molto bene in compagnia l'uno dell'altro. Sarà nato qualcosa di più o è semplice amicizia? Staremo a vedere che cosa succederà.